Il diamante può tagliare qualunque elemento, vetro, acciaio, l'animo umano. Quest'aureomotto, pronunciato dall'iconico Peter Lorre, scandisce in almeno tre momenti un film, La corda di sabbia, del 1949, che guarda in maniera abbastanza scoperta a un altro film, di qualche anno prima, del 1942, forse molto più famoso, Casablanca, anzi decisamente molto più famoso. Come Casablanca anche La corda di sabbia è un, chiamiamolo così, un noir coloniale ambientato in Sudafrica e ha al centro Bart Lancaster nel ruolo principale, oltre alla bellissima attrice francese e naturalizzata americana Corinne Calvé, ma da Casablanca ancora preleva una parte consistente del cast. Paul Enraide, che dal ruolo dell'idealista Victor Laszlo diventa un cattivissimo sbirro in questo film, il già citato Peter Lorre, ma anche il grandissimo Claude Rains. I due Lorre e Rains, alla fine di questo La corda di sabbia, si allontanano promettendosi amicizia, un po' come succedeva a Bogart e Rains nel famosissimo finale di Casablanca. Ma non si renderebbe giustizia a questo La corda di sabbia definendolo un film derivativo. In realtà, se c'è probabilmente il desiderio di capitalizzare un po' il successo di un film importante come Casablanca, ripetendone alcuni accorgimenti, primo fra tutti l'ambientazione esotica, come ho già detto siamo in Sudafrica, però poi il film ha una sua autonomia molto forte, scusate stavo ingoiando la lingua, non so per quale ragione, ed è firmato da un regista William Dieterle, tedesco, uno della pattuglia, di quella pattuglia di cineasti europei e soprattutto tedeschi, che hanno instillato nel cinema hollywoodiano una certa sensibilità europea e naturalmente nel noir, che è un genere fatto di luci e ombre. La corda di sabbia, tra l'altro, è fotografato da Charles Lang, omonimo ma non parente di Fritz Lang, è però collaboratore di Lang in un altro film importantissimo, Il Grande Caldo. Ora, perché parlo della corda di sabbia? Diciamo subito che se pensiamo al film più famoso di Dieterle, è forse anche il più bello, cioè quel ritratto di Jenny che aveva tra i suoi ammiratori niente meno che Louis Buñuel, ma in generale tutta la scena surrealista francese, trattandosi di un melò con una decisa deriva fantasy, ecco rispetto a quel film, ecco che la corda di sabbia è un film molto più concreto, molto più, diciamo così, interessato alla frizione proprio dei corpi, tant'è che ha l'attrito, l'attrito dei corpi, è che è un film in cui c'è una scena di violenza decisamente brutale e registicamente perfetta. Coinvolge Bart Lancaster e Paul Enraide che si picchiano nel deserto, con particolare ferocia, con come unica fonte di illuminazione i fari della Jeep. Perché? Perché Enraide e Lancaster sono arrivati a questo punto? Perché Bart Lancaster è un avventuriero che torna in Sudafrica dopo aver quasi perso la vita per essere stato torturato da Paul Enraide e i suoi scherani, perché era a conoscenza di un giacimento di diamanti su cui Enraide vuole mettere le mani. E Lancaster torna per proposito di vendetta, ma anche di lucro, insomma. Anche se poi il suo personaggio resta quello di un buono, sostanzialmente. E incrocia in questa Sudafrica così denso di personaggi dalle grinte poco rassicuranti, incrocia una Dark Lady memorabile, la bellissima Corinne Calvé, che ha un'entrata in scena straordinaria. E secondo me si dimostra anche un'attrice notevolissima, forse addirittura forse un po' sopra le righe, nel senso che crede molto nel suo personaggio e questo si vede, ma non si può dire che sia un difetto. La sua entrata in scena è contrapuntata dall'attenzione che le dedica Claude Rains qui, il grandissimo Claude Rains qui in un ruolo particolarmente mellifluo di faccendiere, che se la porta a casa, è facile pensare che se la voglia portare a letto, in realtà lui è già avanti, già pensa a come userà il fascino di questa donna per mettere l'uno contro l'altro, Bart Lancaster e Paul Henry, che sono due ostacoli per arrivare anche lui ai diamanti. Ma è una scena questa, si svolge in una camera d'albergo assolutamente straordinaria, dove viene fuori proprio il fascino frustrato perché rifiutato da Rains e Corinne Caldwell, diciamo, interpreta questa scena anche con una fortissima dose di ironia, cioè è impagabile il suo volto quando si rende conto che la sua bellezza non scalfisce Claude Rains che è interessato ben altro. E poi c'è una sequenza altrettanto bella e dilatatissima all'interno di una taverna che culmina una partita poker tra Bart Lancaster e Paul Henry, una partita poker tesissima, e è anche il primo incontro di Corinne Caldwell con questi due uomini che tanto contano per lei, Lancaster in modo positivo perché poi lei si innamorerà di lui, sarà una dark lady particolarmente cinica ma redenta dall'amore, e Paul Henry invece perché lei è oggetto del desiderio suo ma naturalmente parliamo del villain della storia capace solo di un amore malato. E poi naturalmente la grandissima sequenza che ho già ricordato della lotta tra Lancaster e Henry. È un, dicevo, un noir coloniale, un noir che è ambientato fuori dall'America ma che ha al centro un personaggio di avventuriero americano che come accade spesso quando questi personaggi escono dal perimetro della loro nazione si portano comunque dietro una promessa di violenza perché evidentemente la guerra è impossibile da rimuovere, infatti lo stesso personaggio di Lancaster è un reduce e il tema del reducismo è forte anche in questo film seppure diciamo lontano, lontano dalla verticalità degli spazi urbani americani. William Dieterle, diceva un regista alla cui sensibilità teutonica prima ancora che europea perché questo è un film dove la dialettica tra luce e ombra è centrale pur essendo ambientato in un paesaggio estremamente solare perché comunque parte della vicenda si svolge anche nel deserto, nonostante questo nelle occasioni offerte ad Hitler e a Lange, il suo direttore della fotografia, offerte diciamo all'interno delle abitazioni, dei personaggi, delle scene urbane, il taglio dell'inquadratura geometrico e delle ombre veramente è detta le regole di questo film dove gli uomini stessi in qualche modo diventano ombre. Tanto vi dovevo, vi auguro una buona serata.